ciao sono Leonardo Raso titolare della LR Immobiliare oggi ci troviamo a Roma zona Bocceva-Valcanuta in un appartamento in via Fulvio Maroni la palazzina del 1965 ed è dotata di ascensore una palazzina di quattro piani noi siamo al terzo piano e ci troviamo in un appartamento di circa 70 metri quadri l'immobile è composto da ingresso uno spazioso soggiorno diviso da delle porte scorrevoli da un'area attraverso le porte scorrevoli dal soggiorno si entra nella spaziosa cucina l'appartamento è dotato di due bagni questo è il primo dei servizi dotato di doccia e poi entriamo in una spaziosa camera matrimoniale dotata di bagno in suite con vasca e finestra anche da questa camera matrimoniale è possibile accedere al terrazzo dell'appartamento l'immobile a doppia esposizione con orientamento nord est e risulta molto silenzioso e luminoso con affacci nel verde questo delizioso appartamento è posto al terzo piano di una palazzina di quattro piani edificata nel 1965 il fabbricato è dotato di certificato di abitabilità e di ascensore l'appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2016 ed è dotato di riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione aria condizionata serrano elettriche e infissi nuovi in vetro camera la classe energetica la g e la rendita catastale ammonta ad euro 865,67 centesimi potete contattarci nei nostri numeri di telefono per fissare un appuntamento a questo appartamento un saluto dalla LR Immobiliare e la tua casa in buone mani